Musica Bentrovati alla seconda edizione della TG6, apriamo con la cronaca. E' stato convalidato l'arresto di Sandro Buoiocchi, il 51enne pescarese che il giorno di Natale ha ucciso con una dose letale di eparina, la madre gravemente malata. I carabinieri hanno ricostruito il puzzle pezzo per pezzo partendo da un decesso apparentemente per cause naturali e da un tentato suicidio in prima istanza dovuto alla sola depressione. La realtà però nascondeva ben altro, un vero e proprio dramma familiare della disperazione del degrado sociale consumatosi proprio nel giorno di Natale. Sandro Buoiocchi, 51 anni, dopo aver accudito per anni la madre gravemente malata con patologie neurodegenerative, l'ha uccisa iniettando le 15 fiale di eparina che non hanno lasciato scampo alla 74enne Lucia Zafenza, originaria di Chieti Madanni, residente a Pescara. Uno degli altri tre figli dell'anziana l'ha trovata priva di vita nella tarda serata del 25, nell'appartamento all'inizio di via Cristofolo Colombo, a pochi metri dal porto di Pescara. Porto nel quale è stato trovato in stato di incoscienza proprio Sandro Buoiocchi che aveva scelto la banchina commerciale per farla finita con un cocktail di farmaci. Nella Panda c'erano anche una tannica di benzina e un biglietto di scuse ai parenti. Da qui è partita la corsa contro il tempo degli investigatori che hanno capito cosa era successo. La denuncia per scomparsa fatta dal fratello il 27 di dicembre, il funerale a cui mancava proprio Sandro, celebrato quando nessuno sospettava dell'accaduto. Dall'autopsia sul corpo della donna, effettuata prima della tumulazione, è arrivata la conferma e l'incriminazione per omicidio volontario aggravato dal vincolo parentale e dall'avvelenamento. Sandro Buoiocchi ora è piantonato in ospedale a Pescara dove è ricoverato nel reparto di psichiatria e dove oggi si è svolto l'interrogatorio di garanzia in cui il GIP del Tribunale di Pescara Antonella Di Carlo ha convalidato l'arresto disponendo il carcere. L'uomo, che aveva già confessato al PM, avrebbe ribadito la sua versione dei fatti. Sono stati una serie di elementi che ci hanno portato a ricostruire in maniera inequivocabile il quadro indiziario. Siamo partiti da nostri elementi, dall'intuizione di un maresciallo che ha ricevuto una denuncia di scomparsa e in serie di redazione dell'atto ha appreso che nello stesso giorno c'era stato il decesso della mamma. Si è poi andato a scavare per ricostruire il quadro. Sono stati trovati quindi i medicinali e sono state trovate le fiale e le silinghe con cui è stata posta fine alla vita della mamma. In sede di interrogatorio poi la persona ha ammesso le proprie responsabilità dandoci indicazioni precise sia sulla modalità sia sul numero, trovando pieno riscontro tra quanto da noi trovato sul posto e quanto dichiarato. A Teramo sotto shock, gli inquilini delle palazzine Ater di Colle Atterrato per l'ordinanza di sgombero forzato firmata dal sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, dopo il sopralluogo della protezione civile. La cosa che fa infuriare i residenti è che nel documento è scritto che le case sono agibili e che necessitano di qualche riparazione, così le 365 persone che dovrebbero abbandonare le proprie abitazioni sono decise ad opporsi con un ricorso al prefetto. Sentiamo. Non ancora ha notificato lo sgombero forzato alle 29 famiglie delle palazzine Ater di Colle Atterrato a Teramo, ma l'ordinanza c'è ed è alquanto sorprendente. Gli stabili infatti sono stati ritenuti agibili, ottenendo la classificazione di agibilità B con provvedimenti di riparazione su tramezzi e tamponature. Perché dunque l'ordine di sgomberare con la forza 365 persone, tra le quali invalidi, anziani e disagiati per lavori che non necessitano obbligatoriamente l'abbandono delle abitazioni? È arrivata l'ordinanza di sgombero? Sì, l'ho andato a prendere direttamente io personalmente. Perché a voi direttamente non vi è arrivata ancora? No, lì agli altri non è arrivato niente. Io ho anticipato per vedere la situazione che diceva anche l'ordinanza. E c'è una sorpresa, cioè le vostre case non sono inagibili, sono agibili B. Ma allora perché dovete uscire? Non lo so, sinceramente non lo so. Ha chiesto qualcosa in comune? No, io direttamente non ho chiesto niente. All'Ater? All'Ater sì, però l'Ater ha detto che dipende tutto dal sindaco e dall'assessore. Voi cosa pensate di fare? Ma noi ne siamo 27 famiglie e dobbiamo riunirci e vedere che cosa vogliamo fare. Gli inquilini sono sotto shock. Alcuni di loro non hanno la minima intenzione di andare via, altri sono spaventati dall'intervento della polizia, ma tutti stanno valutando il ricorso al prefetto. Alcuni di voi non vogliono andare via? No, assolutamente no. Nessuno vuole andare via, sinceramente. Però se l'ordinanza è questa non è che ci possiamo mettere contro la legge. Avete chiesto un contro con il sindaco, per esempio? Io direttamente no. Come caposcala potremmo anche chiederlo, però non so fino a che punto. Il vostro amministratore di condominio cosa sa di questa situazione? Ma niente, io adesso riesco da loro, ho detto che non so niente. Cioè l'Ater non gli ha comunicato niente. E sono arrivati i 14 milioni di euro di cui necessitavano le casse del comune di L'Aquila. I fondi sono contenuti nel decreto mille proroghe varato ieri dal governo. Tira un gran sospiro di sollievo il comune dell'Aquila che salva il bilancio a fine anno, grazie al cosiddetto pacchetto Abruzzo contenuto nel decreto mille proroghe approvato ieri. Il pacchetto prevede lo stanziamento di 12 milioni di euro per il comune e di 2 milioni di euro per il cratere, per compensare le minori entrate e le maggiori uscite dei bilanci. Il comune dell'Aquila è ora in condizione di redigere entro i primi 10 giorni di gennaio il bilancio di previsione, senza dover ricorrere, come invece accadde lo scorso anno, all'aumento della Tari. Il provvedimento del governo prevede anche le proroghe per i precari della pubblica amministrazione, i cui contratti sarebbero scaduti a fine anno, compresi i dipendenti dei centri per l'impiego a livello nazionale. Inoltre, prevede la proroga fino al 2018 per il personale a tempo determinato del comune dell'Aquila, per consentire l'allineamento con il personale dei due uffici specializzati per la ricostruzione, l'USRA e l'USRC, più le autorizzazioni per la copertura finanziaria delle somme scoperte dei precari del cratere. Il sostanzioso pacchetto di provvedimenti per l'Aquila e il cratere, contenuto appunto nel mille proroghe, è un provvedimento che prevede anche le proroghe per i precari della pubblica amministrazione, i cui contratti sarebbero scaduti a fine anno senza possibilità di rinnovo, compresi i dipendenti dei centri per l'impiego a livello nazionale. Il governo Gentiloni prosegue la buona marcia impressa dal governo Renzi e ha mostrato di mantenere alta l'attenzione sull'Aquila e sui comuni del cratere. Questo è il commento della senatrice aquilana Stefania Pezzopane. Una gran parte di emendamenti del pacchetto che avevo preparato è passata dunque con il mille proroghe. Ad oggi all'Aquila però ci sono più finanziamenti che progetti, ha sottolineato il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, invitando alla coesione di intenti gli uffici speciali e il governo. L'acqua dei laboratori del Gran Sasso non va bevuta è quanto emerge da una relazione dell'Istito Superiore della Sanità del 2013 diffusa dal forum del Movimento per l'Acqua che chiede massima trasparenza sul sistema di allerta e di isolamento dell'acqua potabile. Vediamo. Per il forum abruzzese dei movimenti dell'acqua è necessaria la consapevolezza che oggi i laboratori di fisica nucleare dell'INFN sotto il Gran Sasso sono classificati ufficialmente come impianto a rischio di incidente rilevante in base alla direttiva Seveso. Quindi alcuni esperimenti con migliaia di tonnellate di sostanze pericolose inconciliabili con il territorio. Non è un gioco e un altro passo della nota diffusa dal forum. Si tratta di una questione estremamente seria che comprende la redazione e pubblicizzazione di un piano di emergenza esterna rivolto alla popolazione. Un documento che dovrebbe essere conosciuto a menadito in caso di incidente serio per sapere come comportarsi. La lettera dell'Istituto Superiore di Sanità che nel 2013 certificava l'incompatibilità tra captazione delle acque ad usi idropotabili e attività dei laboratori di fisica nucleare dell'INFN sotto il massiccio del Gran Sasso da un lato conferma tutti i nostri timori ma dall'altro getta una luce sinistra su quanto hanno fatto, o meglio, non hanno fatto, non stanno facendo gli antipubblici abruzzesi. Nel documento si conferma, senza giri di parole, che i laboratori e i suoi esperimenti attuali non sono compatibili con la captazione ad uso idropotabile secondo le leggi esistenti. La zona di totela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni. Essa, in caso di acque sotterranee e ove possibili per le acque superficiali deve avere un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione, oppresa e infrastrutture di servizio. Di conseguenza, spiega ancora il forum, ben 180 litri al secondo di acqua di uno dei più importanti acquiferi d'Europa oggi non possono essere utilizzati per soddisfare un bisogno primario dei cittadini abruzzesi. Costi ambientali e sociali che devono essere resi espliciti visto che ora lo stesso Acquedotto del Ruzzo annuncia di adire alle vie legali per vedersi riconosciuti dai laboratori i costi aggiuntivi della potabilizzazione. 28 sanzioni amministrative elevate per un importo complessivo di 51.000 euro, 10 attrezzi da pesca sequestrati, 208 kg di prodotto ittico sequestrato. Sono questi alcuni dei numeri dell'operazione di Polizia Marittima per il controllo della filiera della pesca denominata Countdown, condotta a livello nazionale e che ha interessato anche l'Abruzzo, il Molise e le isole Tremiti con i rispettivi comandi locali. Sotto il coordinamento della direzione marittima di Pescara, l'operazione svolta nel periodo natalizio indirizzata al controllo della qualità dei prodotti ittici consumati sulle nostre tavole durante le festività all'obiettivo di tutelare i consumatori e garantire il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano appunto la commercializzazione dei prodotti della pesca e la tutela dell'ecosistema marino. Luci ed ombre invece per il WWF che quest'anno ha compiuto il cinquantesimo anno di vita. In Abruzzo c'è soddisfazione per la battaglia vinta contro Ombrina Mare ma si attende con ansia l'istituzione del Parco della Costa Teatina. Sono oltre 200 le battaglie condotte dal WWF Abruzzo nel 2016 un bilancio in chiaro-oscuro per l'associazione ambientalista nell'anno del cinquantesimo anniversario della fondazione. Tra i successi Ombrina Mare e il ricorso contro il calendario venatorio ma accanto a questo c'è anche il Parco della Costa Teatina che resta in stand-by il problema della tutela dell'orso marsicano e tutto il capitolo legato ai fondi regionali per le aree protette e all'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. E poi c'è questa questione ultima dell'acqua del Gran Sasso anche voi chiedete chiarezza alla Regione? Chiediamo chiarezza chiediamo che si stabilisca come è potuto succedere dopo le spese fatte 12 anni fa per mettere in sicurezza il laboratorio ma chiediamo anche e soprattutto che la si smetta di nascondere le notizie se c'è stato un evento il primo di settembre è inconcepibile che i cittadini vengano informati il 15 di dicembre le cose vanno dette subito perché i cittadini devono essere informati non possono essere trattati come bambini poco intelligenti da cui tenere nascosta la verità Ultimo passaggio sull'Arta da poco la nomina del nuovo direttore voi avevate chiesto un tecnico Sì, non dico nulla sulla persona del nuovo direttore che tra l'altro non conosco neanche mi interessa il discorso è che la Regione continua a considerare l'Arta alla sorta di un assessorato e là non si tratta di nominare un presidente si tratta di nominare un direttore e dovrebbe essere un tecnico d'altra parte lo Stato l'ha riconosciuto varando una legge che purtroppo entra in vigore soltanto l'anno prossimo nella quale si chiede una competenza specifica ambientale per il direttore dell'Arta la Regione continua a ignorare questa faccenda e ha nominato di nuovo un politico 1,5 milioni di euro hanno fatto sì che si abbattesse il debito del centro turistico del Gran Sasso di oltre 4 milioni dopo un anno di lavoro questa mattina sono stati presentati i risultati del nuovo corso vediamo con un'operazione a saldo e stralcio di circa 1,5 milione di euro il centro turistico del Gran Sasso ha battuto il debito di oltre 4 milioni che gravava sulla società un anno di lavoro con la progettazione di nuove iniziative per rendere più appetibile l'offerta montana aquilana ma soprattutto meno onerosa per le tasche dei cittadini questo tipo di gestione circa 7 milioni di euro già impegnati e in parte spesi per il rilancio delle attività la progettazione e la costruzione di un percorso dello snow park uno snow park che è tra i più grandi dell'Appennino abbiamo riattivato la manovia abbiamo ricollaudato tutti gli impianti a primavera partiranno i lavori di sostituzione della seggioia delle fontari così come partiranno i lavori dell'hotel di Campo Imperatore l'ostello è già in fase di ristrutturazione anche abbastanza avanzata ci sarà la ristrutturazione dell'hotel Cristallo è intenzione della società a gestire direttamente le strutture ricettive che danno diciamo un grande aiuto da un punto di vista economico un inverno quello che si appresta al Capodanno che stenta però a partire a causa della mancanza della neve fino all'altro ieri le temperature erano elevate e quindi con il caldo difficilmente si ha voglia ad andare a sciare in montagna anche le altre stazioni che hanno l'innevamento artificiale soffrono questa mancanza perché chi va in montagna e soprattutto chi va a sciare lo vuole fare circondato da insomma da un panorama che sia adeguato a quello che fa noi diciamo ce la stiamo cavando con gli escursionisti con chi va in montagna con gli scalatori e chi sta salendo in albergo in questi giorni Dobbiamo lavorare per la città restando sul territorio Moreno di Pietrantonio segretario del partito democratico di Pescara è soddisfatto dell'anno che sta per finire nonostante la sconfitta del referendum tanti temi sul tavolo da seguire anche nel 2017 ed una rassicurazione ai cittadini pescaresi residenti nelle case popolari i fondi per ristrutturarle arriveranno da una variazione del bilancio regionale ascoltiamolo l'inquinamento del fiume Pescara il piano regolatore portuale dunque il porto e poi infine le case popolari sono questi i grandi temi del 2016 del partito democratico ma che si protrarranno anche nel nuovo anno sì questi sono sicuramente i grandi temi ma non ci dimentichiamo del grandissimo tema dell'emergenza occupazione occupazionale soprattutto quella giovanile sui temi dell'inquinamento del fiume del mare per la prima volta perché siamo davvero all'anno zero perché prima non era stato fatto nulla c'è una grande attività per fare in modo che sia della prossima stagione ritorni una balneabilità adeguata decente e poi nel futuro ci sia davvero la risoluzione definitiva di questo problema sia con il piano regolatore portuale con l'apertura della diga foranea con il nuovo depuratore che dovrà essere insomma con tutta l'attività di controllo degli scarichi abusivi tutto questo non era stato mai fatto prima adesso si sta facendo sul piano delle case popolari il presidente proprio stamattina mi ha annunciato che ci sarà una variazione di bilancio per fare fronte alle necessità lo stato di salute del PD di Pescara qual è? lo stato di salute del PD di Pescara è ottimo abbiamo otto circoli radicati nei territori in tutti i punti della città c'è un ottimo lavoro ci sono diverse tante direi ultimamente richieste di nuove iscrizioni questo non ci può fare che sperare bene ma sta ad indicare che è un partito sicuramente di riferimento quello che voglio dire come augurio per il prossimo anno è quello di mettere mano davvero alla vera emergenza che è quella della disoccupazione giovanile e per il centrodestra pescarese caos cultura al comune i consiglieri d'opposizione prendono spunto dal caso ente manifestazioni pescaresi per attaccare l'amministrazione Alessandrini che non avrebbe una precisa strategia politica sul settore cultura la soluzione una fondazione che gestisca le manifestazioni culturali e i musei che cosa sta accadendo al settore cultura nella città di Pescara l'ente manifestazioni è praticamente è rimasto senza soci dopo l'abbandono della fondazione Pescara Abruzzo e quello della camera di commercio e poi ci sono i musei alcuni verranno privatizzati insomma che cosa accade è giusto parlare anche del ad esempio del museo Colonna che è un museo in totale abbandono che prima era fucina di manifestazioni e di mostri internazionali e oggi invece vive una fase totalmente di oblio parliamo dell'aurum che prima aveva una vocazione culturale ben netta spiccata oggi è diventata una fitta spazi a 360 gradi l'ente manifestazioni è stato oggetto di abbandono da parte di tutti perché manca una regia politica da parte da parte del comune che non sa avvicinare sponsor privati che non sa avvicinare fondazioni bancarie che non sa avvicinare la regione Abruzzo la regione Abruzzo invece di fare trasferimenti spot per il concerto di fine anno il concerto di primo maggio dovrebbe invece se vuole avvicinare il comune e fare una programmazione congiunta per voi la soluzione è creare una fondazione che gestisca la cultura a pescare? può essere messa in moto una fondazione che vada a raggruppare tutte le non solo gli enti pubblici ma anche stimatori dell'arte la cultura che vogliono avvicinarsi che vogliono dare i propri contributi perché affinché Pescara possa tornare al fasto di un tempo e possa offrire una offerta culturale degna di questo nome per la prima volta la città di Teramo ha vissuto la magia del presepe vivente a causa del terremoto infatti la tradizionale manifestazione che si svolgeva ormai da otto anni nella frazione di Miano è immigrata nel centro storico del capoluogo complice la bellezza del teatro romano e della cattedrale medievale l'evento di ieri pomeriggio è stato un capolavoro con oltre cento figuranti vediamo suggestivo commovente e davvero fedelmente ricostruito quell'angolo di Betlemme dove più di duemila anni fa è nato Gesù per la prima volta Teramo ha avuto il suo presepe vivente ed è stato un bel momento complice purtroppo il terremoto che ha fatto emigrare la manifestazione dal paesino di Miano al centro storico del capoluogo l'organizzazione è stata curata dalla comunità parrocchiale della frazione teramana che ripete l'evento da otto anni e lo fa con grande maestria la scenografia secondo il pubblico dei visitatori ne ha forse acquistato grazie alla bellezza dell'antico teatro romano e della cattedrale centinaia sono stati figuranti tutti rigorosamente i mianesi che hanno riprodotto le botteghe artigiane del tempo e momenti di quotidianità con attrezzi e suppellettili d'epoca che personaggio sei? lo scultore hai la comparsa in questo presepe da tanti anni? il nono ottavo anno sono emozioni che è difficile descrivere già ci sono le lacrime agli occhi perché ritrovi persone ritrovi anche piccoli valori che sono quelli che oggi mancano fratellanza diciamo parole grosse solidarietà che non ci sta più sopportarsi litigare pure però dopo è lo scopo quello che vale è il fine fare pace fare pace sì dopo è venuto la soddisfazione si può litigare da stamattina però dopo la soddisfazione di vedere passare una persona non ti dice ci abbattino un altro però è dentro che si ride ma ti senti buono come Gesù? mi fa diciamo ti emoziona questo paesaggio ispirato a lui? sì ma che fate? eh tritiamo le spezie che si mangia in questa locanda? mangia della lenticchia con della pancetta accompagnata da un bel bicchiere di vino rosso buon appetito i visitatori del presepe vivente mianese a Teramo hanno concluso il percorso ammirando l'ultima scena la capanna della natività appoggiata al muro della cattedrale circondata da pastori pecore il bue e l'asinello nella mangiatoia piagnucolava l'ultimo nato del paese cullato da due giovani genitori Maria e Giuseppe e riverito da tre magi tra i quali anche il sindaco Brucchi che portava in omaggio al bambinello il suo oro un capodanno in anticipo per dare l'avvio alle celebrazioni delle piazze abruzzesi l'iniziativa arriva dal comune di Spoltore che dalle 21.30 di questa sera animerà il centro storico con un concerto e un cartellone di eventi dedicati al nuovo anno vediamo il countdown avverrà 24 ore prima di quello delle altre piazze abruzzesi l'obiettivo è quello di aprire le danze un giorno prima e rendere l'avvio del nuovo anno diverso dal solito l'idea è del comune di Spoltore che ha organizzato un veglione ricco di appuntamenti a partire dalle 21.30 di giovedì 30 dicembre una bella iniziativa ci saranno tante tante belle novità si svolgerà sulla piazza di Marzio e in caso di maltempo nei locali della cripta proprio lì a fianco alla piazza e ci sarà il gruppo del maestro valore il contemporary vocal ensemble veramente uno spettacolo di altissimo livello e ci saranno tante belle novità il jet set insomma veramente tante belle cose a che da Spoltore si inizi a festeggiare il nuovo anno Spoltore richiama poi tutti non solo gli spoltoresi ma tutti quelli che vorranno venire a vedere Spoltore a festeggiare a Spoltore questo inizio della festa del fine anno è chiaro che noi ci aspettiamo tantissima gente perché comunque questo cartellone delle manifestazioni natalizie sta andando molto bene abbiamo coinvolto tantissime associazioni locali e secondo appuntamento natalizio invece a Lanciano con gli studenti dell'istituto Omnicomprensivo stavolta è stata la volta dell'orchestra della scuola composta da 90 allievi nel corso del concerto sono stati attribuiti i premi fanci e quello di giornalista per un giorno vediamo Aula Magna Grimita l'Umberto I di Lanciano anche per il secondo appuntamento natalizio con gli allievi dell'istituto comprensivo dopo l'iniziativa una voce e tante voci con l'esibizione in canti corali di oltre 120 alunni delle classi prima e seconda G della scuola secondaria quinte A e B della primaria Rocco Carabba e quinte B C e D della primaria Principe di Piemonte è stata la volta dell'orchestra della scuola diretta dai docenti Roberto Scandavini Donatello Gammaraccio Alberto Biondi e Eginia Di Florio l'orchestra composta da oltre 90 elementi tutti alunni delle classi prime seconde e terze della scuola secondaria di primo grado si è esibita nel repertorio di brani natalizi della tradizione musicale italiana e internazionale nel corso del concerto sono stati attribuiti il premio Alessandra Fanci e il premio giornalista per un giorno mentre agli studenti delle classi seconde e terze che si sono distinti nel corso dell'anno scolastico 2015-2016 sono stati consegnati gli attestati di merito passiamo passiamo alla pagina sportiva oggi il Pescara riprende la preparazione in vista della ripresa del campionato il prossimo 8 gennaio intanto la società Bianca Azzurra è molto attiva sul mercato praticamente fatta per Budimir e Tiam a ore l'incontro decisivo per l'Edesma il servizio Ante Budimir sarà ad ore un nuovo giocatore del Pescara ormai non ci sono più dubbi l'attaccante croato che la stagione scorsa fu uno dei protagonisti dell'annata con lo Crotone con 16 reti messe a segno ora si giocherà le chance di salvezza con la maglia Bianca Azzurra secondo colpo di mercato dunque per il Delfino prestito con obbligo di riscatto a un milione e mezzo che scatterà in caso di permanenza dei Bianca Azzurri nella massima serie insomma un acquisto che diventerà definitivo se il Pescara centrerà l'obiettivo corroborato dal pareggio di Palermo prima di Natale che tiene la squadra di Massimo Oddo ancora agganciata al treno 25 anni di Zenica Budimir finora non ha trovato spazio nella Sampdoria cerca il rilancio con una formazione che possa dargli maggiore minutaggio non solo Budimir però perché in addirittura d'arrivo anche la trattativa che porterebbe anzi riporterebbe in Abruzzo Mame Babatiam il senegalese di 24 anni del PAUC di Salunico ma con un passato recente alla Virtus Lanciano sarà un ulteriore innesto il direttore sportivo Luca Leone che l'ha avuto in Rosso Nero confide sulla voglia di riscatto dell'attaccante che finora ha avuto la vetrina maggiore solo in Europa League visto che in campionato ha messo insieme solo una manciata di minuti la Juventus che detiene il cartellino di Tiamma dato il via libera al prestito e il ragazzo anche grazie alla volontà espressa ha permesso il sorpasso al Pescara sull'Empoli che era interessato con la Juventus ancora rapporti allacciati per cercare di riprendere per sei mesi anche Rolando Mandragora dietro oltre a Stendardo si continua a lavorare per Cesare Bovo proposto anche uno scambio con Fornasier ma si attende la decisione della difensore del Torino oggi intanto dovrebbe esserci un incontro a Roma tra il presidente Biancazzurro Daniele Sebastiani e Cristian Ledesma svincolatosi dalla Panatine Cos per mettere nero su bianco l'accordo che porterebbe l'ex Lazio a Pescara per sei mesi anche qui con eventuale opzione in caso di salvezza in uscita dopo Aquilani passato al Sassuolo Manai tornerà all'Inter ma dovrebbe essere subito girato in Spagna alla Spalmas con Zampano nel mirino delle Big Fiorentina e Sampdoria peraltro quest'ultimo interessato anche a Valerio Verre occhi puntati sul giovane della Juventus Federico Mattiello ma sono opportunità anche perché la Pescara vorrebbe comunque mantenere i suoi due gioielli almeno fino alla fine della stagione per giocarsi tutte le carte a disposizione e a proposito di mercato questo pomeriggio ripresa degli allenamenti per il Pescara in vista della ripresa di campionato abbiamo detto l'abbiamo già detto quindi in Lega Pro invece altra sconfitta per il Teramo che cade a Bassano per 2 a 1 Biancorossi in vantaggio con Capitanio nel primo tempo ma che nella ripresa subiscono la rimonta di casa grazie alla punizione di Candido al 75esimo e al colpo di testa di Maestrello a tempo quasi scaduto Jacopo Forcella il filiale di anno del Teramo è il più amaro che ci si potesse attendere la sconfitta l'ennesima di questa stagione contro il Bassano fa sprofondare il diavolo in una crisi senza fine che avrà certamente delle conseguenze specie nel mercato di gennaio e dire che le cose nel freddo pomeriggio veneto sembravano aver preso una piega diversa il Bassano prova all'inizio a fare la partita ma la squadra di D'Angelo non trova gli sbocchi desiderati Fabbro tenta al settimo con una conclusione all'interno dell'area stoppata viene scivolata da Sales poi molti minuti di supremazia sterile dei Veneti prima dello squillo bianco-rosso al venticinquesimo Sanzovini trasforma quasi in gol un calcio di punizione che si guadagna al limite dell'area di rigore il sinistro trova la deviazione provvidenziale della barriera giallorossa che concede solo il corner ma sugli sviluppi il Teramo mette il naso avanti la traiettoria di Di Paolo Antonio trova al centro dell'area di rigore la testa di Filippo Capitanio che anticipa Cavagna e batte Rossi il Teramo si rivede al trentanovesimo con Sales che scodella per il tacco acrobatico di Sanzovini a cui volé manca di poco la porta Veneta la reazione dei paroni di casa arriva al decimo della ripresa da un calcio piazzato la limite dell'area di rigore va a Minesso che col sinistro pesca all'angolo più lontano scavalca la barriera ma c'entra in pieno la traversa la gestione della partita però in casa bianco-rossa è davvero scellerata D'Angelo sull'altro fronte getta nella mischia tutto il potenziale offensivo che ha il Teramo subisce passivamente e dopo il destro alto di Laurenti a un quarto d'ora dalla fine subisce le pari grazie alla punizione pennellata dal neoentrato Candido che batte il calore costretto alla resa dalla traiettoria del giocatore giallorosso tempo per trovare comunque il successo ci sarebbe ma Zauli passato nel frattempo alla difesa 3 preferisce coprirsi e conservare il punticino mentre il Bassano ha l'arrembaggio imperversa Caidi è provvidenziale su Grandolfo all'ottantesimo il tiro dalla distanza di Minesso all'ottantacinquesimo è alto ma sono cattivi presagi che non vengono percepiti in casa biancorossa D'Angelo butta dentro anche Tommy Maestrello e dopo il miracolo di calore sull'Aurenti all'ottantanovesimo la beffa atroce si concretizza ancora una volta nel recupero con la sponda di Grandolfo che pesca proprio Maestrello col tapin vincente che manda il diavolo all'inferno chiune un 2016 horror e un progetto tecnico nato nel peggiore dei modi in estate e che scelte ancora più improbabili in corso d'opera stanno trasformando in un vero e proprio incubo sportivo in Serie D il Chieti si ritira dal campionato la decisione era nell'aria ieri il giudice Nicola Valletta non ha concesso l'esercizio provvisorio per portare a termine il torneo ora si attende l'ufficializzazione da parte della Lega Nazionale di Lettanti vediamo adesso è praticamente ufficiale il Chieti si ritira dal campionato di Serie D dopo la sentenza del Tribunale dello scorso 15 dicembre che aveva dichiarato il fallimento della società ieri il giudice Nicola Valletta non ha autorizzato l'esercizio provvisorio nonostante la richiesta della curatrice fallimentare Nicola Corvacchiola il giudice infatti non ha ritenuto che ci fossero i presupposti per portare avanti e terminare regolarmente la stagione e dunque ha disposto lo svincolo di tutti i giocatori tesserati che dunque saranno liberi di trovare altre sistemazioni la conseguenza è che la squadra nero verde non scenderà più in campo di fatto abbandonando con un girone d'anticipo il torneo la Lega Nazionale di Lettanti potrebbe in giornata già ufficializzare l'esclusione e sarebbe nella storia ultra novantennale delle Chieti la prima volta che i nero verdi si ritirano da un campionato non ci sono risorse per affrontare le trasferte per provvedere ai rimborsi e portare dunque avanti la baracca inoltre in molti hanno manifestato a chiare lettere la voglia di andare via senza contare l'impossibilità di attingere al settore giovanile inesistente e ai ragazzi della Juniors già svincolati prima del fallimento intanto nei prossimi giorni la curatrice fallimentare provvederà a rintracciare l'ex presidente Mauro Giacomini che non ha risposto alle prime due convocazioni magari chiedendo al giudice anche l'intervento della forza pubblica poi sarà presentata sempre in tribunale e in procura una relazione delle cause e delle circostanze del fallimento obiettivo finora praticamente impossibile visto che Giacomini non ha ancora presentato alcuna documentazione ed è tutto per questa seconda edizione del TG6 l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento grazie per la visione